Nuova puntata e oggi facciamo quello che è stato promesso nelle puntate precedenti quindi mai come quest'anno molto molto importante previsioni per il 2022 e a differenza degli altri mesi dove si farà anche la previsione mensile qua proprio alla grande previsioni annuali diciamo che ci basiamo però sull'unica certezza che abbiamo per quanto riguarda i mercati finanziari e cioè che appunto l'unica certezza è l'incertezza quindi questa è la base, la premessa quando dobbiamo parlare di previsioni per quanto riguarda i mercati finanziari ebbene cominciamo subito come ogni anno ebbene c'è sempre un qualcosa che io indico come diciamo riferimento per quanto riguarda tutto l'anno a cui proprio guardare per rendersi conto un po' di come possono andare i mercati finanziari l'anno scorso avevo detto guardate un po' dove va la volatilità e direi che è andata bella all'insù nel senso che è stata molto positiva e il trend beh devo dire che è rimasto tale tant'è che in privato ricordo per chi mi vuole sostenere ci sono dei servizi patreon.com slash cambiare tutto avevo detto comprate perché dicembre sarà il miglior mese o quasi direi dell'anno nonostante poi si sono visti anche dei cali io ho continuato a sostenere in privato ricordo che ogni settimana poi tra l'altro faccio un resoconto settimanale sul swing trading un altro servizio di patreon.com slash cambiare tutto e ho indicato nei momenti peggiori di comprare ebbene chi l'ha fatto è andato molto molto bene ne parleremo un po' di tutto e partiremo proprio dall'elemento centrale che bisognerà guardare quest'anno qual è questo elemento centrale? e beh sicuramente sarà l'inflazione l'inflazione è l'elemento centrale a cui fa riferimento quando si investe o meglio quando andremo a investire quest'anno questo perché? perché è chiaro che l'obiettivo principale quest'anno di chi fa il mercato quindi parliamo degli americani ebbene la Fed è stata direi proprio chiarissima sotto questo punto di vista il loro obiettivo principale quest'anno sarà abbassare l'inflazione bene se ci riusciranno non credo che ci saranno molti problemi i mercati andranno bene se non ci riuscirà beh sarà un bel problema i mercati non la prenderanno bene in primis le azioni tecnologiche sovra indebitate con non grossi margini e con gli utili o meglio che non fanno utili questo è l'elemento principale da tenere a mente ma non solo non penso che molte azioni anche di quelle che faranno utili beh ne usciranno bene se non riusciranno a far ricadere i costi dell'inflazione più alta quindi delle materie prime in generale che acquisteranno per vendere i propri prodotti sull'utente finale beh se non riusciranno a far cadere questi costi maggiori che avranno sull'utente finale ebbene queste aziende qua non se la passeranno bene chi riuscirà vincente se l'inflazione continuerà ad essere alta sicuramente chi riuscirà invece a tenere botta facendo cadere questi costi sull'utente finale ahimè noi ahimè noi e quindi loro beh riusciranno a tenere botta quindi guadagneranno un bel po' quindi la prima non dico indicazione non voglio assolutamente non sono consigli per gli acquisti ma la mia prima impressione direi che forse è arrivato il momento di non andare a rischiare su azioni piccole ma dare più un'occhiata alle azioni di grossa capitalizzazione le azioni belle con un bilancio solido le azioni value beh forse quest'anno è arrivato un po' il loro movimento per quanto dal mio punto di vista sul lungo termine beh io sono sempre dell'idea che chi ha un bel piano lo segua indipendentemente da quello che può succedere quest'anno e io non sono un fan delle azioni value ve lo dico sinceramente per quanto chi vuole fare diciamo un investimento relativamente tranquillo ebbè sono le azioni che devono essere sempre prese in considerazione secondo elemento obbligazionario ebbene sarà molto interessante vedere i treasury americani stiamo parlando sempre di america lasciamo stare tutto il resto perché credo che l'anno prossimo veramente sarà l'anno in cui l'america farà il bello e il cattivo tempo nel senso che è difficile pensare che se il mercato americano va male l'Europa andrà bene o meglio le azioni europee andranno bene non penso a differenza degli emergenti poi ne parlerò più avanti cercherò di essere più breve possibile ebbene penso che veramente quest'anno ci sarà ci sarà una ci sarà una bella annata per l'obbligazionario nel senso che potrebbe essere una di quelle annate dove forse è arrivato il momento giusto di incominciare a investirci qualche cosina più che altro perché i treasury diciamo si muovono in maniera inversa all'azionario e forse non sarebbe proprio così male poi bisogna sempre vedere gli strumenti che si acquistano perché dal mio punto di vista è molto molto importante scegliere bene gli strumenti se si ha un'idea ben precisa una cosa per esempio è comprare l'obbligazionario i-held un'altra cosa è comprare un obbligazionario sul lungo termine dei treasury o a breve termine o a medio termine un'altra cosa è comprare un obbligazionario americano che sia eggiato oppure che sia coperto dall'inflazione beh ce n'è di tanto e di più i-held investment grade ce ne c'è un bel po' da lavorarci su queste cose qui però penso che forse è arrivato il momento di comprare un pochettino di obbligazionario governativo americano lo so lo so qual è l'idea generale è che i tassi aumenteranno e l'obbligazionario perderà valore sì ma se si comprano gli strumenti adatti beh penso che sia una buona occasione per accumulare anche su questi prodotti qui perché penso che non 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 vedremo un'inflazione che andrà fuori controllo né tanto meno vedremo tassi di interesse che andranno fuori controllo non prevedo proprio minimamente questa cosa lo si può escludere penso quasi categoricamente ci potrebbe essere qualche cosina su breve termine ma sarebbe appunto un buon momento secondo me per acquistare sul mercato azionario già ho detto la mia su cosa puntare interessante invece è il mercato degli emergenti perché se tutto va bene il mercato azionario americano qualche cosina di buono riesce a farlo ecco io penso che non arriverà al 10% se ci arriverà andrà un po' più su un po' più giù ma non vedo un'annata molto positiva rispetto alle annate scorse che sono state strepitose perché l'ultima con il cambio se mettiamo anche il cambio beh siamo arrivati a quasi il 40% l'S&P 500 è 27% se non ricordo male senza cambio quindi sono annate difficilmente che arrivano difficilmente due di seguito di questa annata è qua quindi la vedo difficilotta che andiamo diciamo sopra il 20% è molto probabile che se le cose vanno bene forse si arrivi a doppia cifra per gli emergenti invece la situazione la vedo molto meglio la situazione secondo me degli emergenti potrebbe davvero dare qualche qualche bella sorpresa in positivo generalmente gli emergenti sono molto volatili e questo a certe volte potrebbe anche essere un momento in cui si possa investire sugli emergenti visto che la volatilità di questi strumenti qui può essere sfruttata molto positivamente visto che secondo me è inevitabile che crescano visto il PIL previsto di queste aziende qui quindi delle aziende che fanno riferimento agli emergenti in particolare parlo delle aziende cinesi chiaramente che sono state tartassate nel 2020 e secondo me sono eccessivamente sottovalutate per quello che valgono parlo soprattutto anche qui delle big ma ormai è un po' secondo me difficile parlare di big diciamo big all'interno della Cina big mondiali un po' di meno però direi che la Cina essendo un paesotto di un miliardo e quattrocentomila persone beh è tanta roba direi quindi anche anche se rimani all'interno all'interno beh non è proprio malaccia la cosa e comunque ricordiamolo che molte di queste aziende cinese sono quotate sul mercato americano quindi inevitabilmente acquisiscono anche capitali esteri parlando invece delle criptovalute beh beh ma cosa dire secondo me secondo me ci sarà davvero una scrematura di speculatori sulle criptovalute nel senso che molti capiranno che poi alla fine non tutto quello che luccica è oro cioè è difficile poi alla fine abituarsi alla volatilità questo è la sincera verità essendo i bitcoin le criptovalute asset che secondo me sono ancora altamente speculativi beh è difficile resistere a livello proprio emozionale quindi parlando di finanza comportamentale ad asset che si muovono così velocemente che da un giorno all'altro passano dai 50.000 dollari ai 40.000 dollari dai il massimo di 68.000 dollari a non so meno di 30.000 dollari come è successo l'anno scorso e potremo vedere movimenti che faranno sì che molte persone beh incominceranno a non tollerare più tutta questa volatilità soprattutto se i prezzi dovessero rimanere bassi o comunque al di sotto dei massimi quest'anno è ovvio che è praticamente impossibile dare una previsione anche a livello statistico di un asset così volatile perché è praticamente in mano agli speculatori il 90% che mette mano su queste criptovalute beh lo fa semplicemente per guadagnare sul breve termine non a caso sono molto volatile non a caso questi non a caso queste persone qua cioè fanno questa cosa qua del trading dei trading proprio perché sanno che sono molto volatili molto semplicemente beh chi invece dovesse investirci sul lungo termine la mia idea è non più del 5% del portafoglio è anche tanto grasso che cola e non dovreste avere nemmeno altri investimenti questa era la mia opinione due anni fa questa dell'anno scorso e quella di quest'anno nel senso che comunque personalmente non ci ho mai investito o beh mai proprio no chi mi conosce sa la storia di quella volta che ho messo mano ai bit ho messo un po' di soldi sui bitcoin nel 2016 di come è andata e per il resto cosa dire mancherebbe il nostro mercato italiano prima del mercato italiano piccola parentesi dell'oro cioè negli ultimi due anni ormai è un morto che cammina a me sembra cioè oggi si dovrebbe tenere un asset di questo genere nel portafoglio per cosa per abbassare la volatilità ma io mi chiedo a sto punto perché non tenere più liquidità perché 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 perde soldi perdono valore in base all'inflazione beh se se l'oro non mi copre se l'oro non mi copre poi l'aumento dell'inflazione beh mi diventa difficile tenerlo nel portafoglio con tutti i costi allegati perché ricordiamolo che comunque devi comprare un asset che come valuta di riferimento ha il dollaro e anche qui beh beh il rischio il rischio del cambio c'è sempre quindi veramente rischi di perdere solo pure se sta fermo il valore dell'oro rischi di perdere comunque dei soldi poi cosa abbiamo materie prime mia opinione tagliamo subito la testa al toro stanno in bolla le materie prime dal mio punto di vista non ne parlo nemmeno perché stanno in bolla partendo dal petrolio questa è la mia opinione poi andremo a vedere il petrolio sopra i 70 dollari secondo me è sopravvalutato non va nemmeno preso in considerazione ma questa è un'opinione mia personale proprio sulle materie prime ho pochissimi dubbi non ci investo proprio visto che io parlo di investimenti non ne parlo proprio quest'anno potrebbe andare bene fino a un certo punto poi alla fine il rischio di crollo è più grosso secondo me dei rendimenti che potrebbero fare soprattutto dopo che la Fed ha detto chiaramente che farai tutto per abbassare l'inflazione e quindi già secondo me andrà a parare lì perché le materie prime come il petrolio beh incidono tanto poi alla fine sull'aumento dell'inflazione non c'è molto da ragionarci su mercato italiano beh io non non investo nel mercato italiano nemmeno europeo secondo me farà meglio del mercato europeo non siamo messi così male io sono sempre ottimista sulla nostra nazione un po' meno sulle persone che ahimè popolano questa nazione ancora meno su quelli che ci investono sulla nostra nazione a livello obbligazionario non ci penso nemmeno minimamente non ci si dovrebbe nemmeno mettere mano perché reputo assolutamente un rischio enorme in proporzione al rendimento mettere mano quindi comprare obbligazionario italiano sulle azioni sono ancora troppo piccole troppo poco capitalizzate e diciamo con una scorreggina potrebbero farle collare un reidalio il primo reidalio americano potrebbe potrebbe farle cioè potrebbe puntare qualche azione e farla collare anche delle più grandi parlo di reidalio per dire qualsiasi agent fund qualsiasi grosso investitore ecco in generale quindi fin quando ci sarà questa situazione qua che tra l'altro è già successa in passato ebbè sarà davvero difficile che io metta a mano i miei soldini in qualche azione italiana nonostante ce ne siano di interessantissime come ricordati come Nexi come Ferrari le prime che mi vengono in mente sono davvero delle belle belle aziende mi piacciono davvero tantissimo non compratele io non le compro non sono consigli per gli acquisti ci sono tante belle aziende in Italia soprattutto nel settore delle delle cosiddette perché adesso è cambiato dell'indice star beh lì veramente ci sono aziende che mi piacciono davvero tanto che se fossero secondo me se fossero americane beh avrebbero tutt'altra capitalizzazione tra l'altro qualcuna si è pure quotata in America vedremo come come andranno dal mio punto di vista davvero difficile investire in Italia soprattutto in un mercato anche qui che è ai massimi e se tanto mi da tanto e tra un anno Mario Draghi andrà via in Italia si apre anche una bella incognita politica perché una volta tolto il collante beh si va alle elezioni secondo me e lì bah non so chi sarà il nuovo leader chi sarà il presidente del consiglio che avrà la stessa autorità e autorevolezza di Draghi in Italia e all'estero bah quindi investire in Italia bah cioè la vedo difficilotta per questi motivi che ho detto quindi io personalmente non investirò in Italia che dire più non penso che ci sia ho parlato un po' veramente di tutto e di più chi vuole investire sulle azioni tecnologiche invece bene investa anche qui su azioni belle solide anche se hanno costo tantissimo secondo me poco conta un settore su cui piunterei quest'anno beh l'ho detto l'anno scorso quello dell'anno scorso è quello di quest'anno il lusso molto un settore che secondo me andrà molto molto bene e rimango dell'idea che la cosa principale sia quello di avere un bel piano finanziario e su questo beh contattatemi cambiare tutto cambiare subito chioccelagimelle.com ripeto il il sito patreon.com slash cambiaretutto il gruppo dove di queste cose ne parliamo ogni giorno più volte al giorno cambiare tutto cambiare subito previsioni sull'economia e la finanza gruppo facebook ragazzi a me non resta che salutarvi non resta che ricordarvi che come al solito siete sempre sotto il fuoco nemico